Gente di mare, che se ne va, dove gli pare, dove non sa. Gente che muore, di nostalgia, ma quando torna dopo un giorno muore, per la voglia di andare via, gente di mare, e quando ci fermiamo sulla riva. Se vuoi andare per mare con un'unità da diporto, ricorda, la sicurezza comincia prima di partire. Controlla di avere a bordo le dotazioni e le attrezzature per le emergenze e assicurati che siano funzionanti e facilmente raggiungibili. Consulta le ordinanze di sicurezza emesse dalle capitanerie di porto e ricorda di verificare sempre le condizioni meteomarine sulla rotta che hai pianificato. Non navigare nelle aree riservate alla balneazione. Se noti delle boe di segnalazione, modera la velocità e tieniti a più di 100 metri di distanza. Per altri consigli per la tua sicurezza in mare, consulta il sito www.guardiacostiera.gov.it